dove zittisce i loggionisti al diciassettesimo con il gol del pareggio. E' splendida l'intuizione di Vieira, che indovina il corridoio giusto per Alessandro Del Piero. Stop di destro e botta di sinistro a fil di palo, imparabile per l'Obont. Per il capitano juventino è l'undicesimo gol in campionato, nonostante il part-time. Una prodezza che spegne sul nascere la nuova contestazione. Anche se i tivi...